Un fine settimana dedicato allo Judo, ritorno all'appuntamento con il Guido Siene Judo Cup. Seppur con mille problemi legati alla logistica, Stefano Urgeghe presenta l'evento. Purtroppo le società sarebbero state molto di più, in quanto la partecipazione è sempre legata ai trasporti, ai trasferimenti, e il caro biglietti, il caro viaggio ha fatto desistere molte squadre proprio per poter partecipare. E questo è veramente un peccato, perché avere numeri in meno che sarebbero stati veramente alti dispiace proprio per questo motivo. C'è un progetto in itinere, una proposta presentata proprio qualche giorno fa, che darà sicuramente nuovo ossigeno alle società e soprattutto a quelle che sono le programmazioni a venire. Certo, diciamo che da parte dell'assessorato regionale è previsto un aiuto non da poco per poter effettuare queste manifestazioni. E questo chiaramente ci potrà aiutare, se non altro, a dare un contributo anche alla società straniere del continente per poter partecipare a questo torneo. Ne abbiamo diviso quest'anno in due giornate, il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Sabato pomeriggio avremo la classe esordienti A e esordienti B, quindi sempre parlo di classi giovanile, e dovremo assestarsi intorno ai 150-160 partecipanti. E lo stesso numero sarà riproposto la domenica mattina con la classe cadetti. Grazie.